Nessun risarcimento milionario per Luca Caprai da parte del comune di Forte dei Marmi. I giudici del Tribunale di Lucca hanno respinto infatti la maxi richiesta dell'imprenditore, patron della Griff Cruciani, che aveva chiesto 5 milioni di euro o il sequestro cautelativo di Palazzo Quartieri per la mancata realizzazione della sua boutique nell'ex sede municipale. La vicenda si trascina dal 2015. Caprai aveva vinto il bando per realizzare un negozio al piano terra del palazzo con l'onere di restaurare gli interni. Scoperta la mancata autorizzazione della sovrintendenza, in quanto non richiesta dal comune, l'imprenditore aveva concordato a voce con l'allora sindaco Umberto Buratti di fermare l'operazione. Ma il parere delle belle arti non era necessario, come confermato solo più avanti dal Ministero dei Beni Culturali. E così è partito un tiro e molla fra il comune e l'imprenditore, che ha chiesto prima risarcimento per il mancato guadagno e poi ha accusato il comune di non aver accantonato i soldi necessari per risarcirlo. Un caso salito anche alle cronache nazionali ed è venuto da subito politico a Forte Remarmi, portando feroci critica all'allora sindaco Umberto Buratti, motivo di scontro anche nell'ultima campagna elettorale. Ma oggi i giudici hanno dato sostanzialmente ragione al comune, in quanto l'autorizzazione della sovrintendenza, che stoppò tutto, non era necessaria. I giudici hanno inoltre disposto la compensazione delle spese per entrambe le parti.